Sì ragazzi, guardate il menù, guardate il titolo, guardate la mia faccia, guardatevi da soli Sì! Perfetto, no no no, è perfetto, questo è valentino Io sono un barbone Allora, e ci siamo svegliati Noi spawniamo in punti diversi Vale, ti ricordo, ma la vera domanda è Tu, adesso, dove sei? Ti do un indizio, ti do un indizio per dove sono Guardare le frecce Sono nelle backroom Mamma mia, non lo sapevo, guarda, proprio dove vuoi Ho trovato le scale io Eccoti! Davvero? T'ho trovato, sì! Eccoti, vediamo Allora, cosa abbiamo? Acqua, acqua Entità sconosciuta È un umanoide che sembra essere patto di cavi Quel cosa orribile Quando è vicino Quando è vicino la stanza cambia ed è attratto dai device elettrici Pillole antistress Pillole antistress Allora, in the lurking darkness, quindi nel buio, nel buio scuro tipo Nasconde qualcosa di sorridente Alcune voci dicono che sia un corpo fisico che non può essere visto a occhio nudo Va bene Vale, ti piace questo gioco però Che putteina Bello Qua c'è un enigma alla silent hill Io mi ricordo che tu avevi capito come fare sto enigma Mi spieghi che cavolo Allora, vai in ascensore Tre Sì Sette Sì Uno Sì Due Ok, entra Fatto Grande Vale Grande Vale è il cazzo perché adesso Siamo fattuti Noi ci siamo fermati qui Abbastanza Non siamo andati oltre perché oltre sta parte non si riesce ad andare avanti per la paura Entity 8 Una creatura veramente strana che è stata vista uscire dalle backroom Vabbè, è un cane umanoide Correre via non servirà molto Bello Vale, no, ma molto rassicurante Ok, no, ma prima c'è stata Ecco C'è una porta Vieni con me Ciao faccia Oddio Ma io non so se guardarlo Ma se ci avviciniamo Vai tu matto Ciao faccia Vieni con me È sparita Che brutta scena Vai in sta porta Vai in sta porta e basta La prossima area è completamente radioattiva Se qualcuno vuole entrare È richiesta una suite di sicurezza Quindi questa qui Oh Dietro di te Oh Dietro di te Io ho visto una cosa orribile No male io l'ho visto il jumpscare Non te lo sei beccato tu Ah ok, meno male Sono radioattivo Ho insieme a delle radiazioni Non è indietro Perché sei andato lì? Mi hai fatto cagare addosso Stavento di merda No a me mi vengono i... Calaveri Ma aspetta Lena Reynolds Nathan Allen Robert Ma dobbiamo capire Ma dobbiamo capire Aki Aspetta Nel enter code Non c'è un Un numero da inserire Non è che dobbiamo controllare Chi è il sangue E chi no? Ho capito Clicca il primo Secondo Terzo Sì Quarto Quinto Settimo Ottavo No Allora al contrario Il secondo Che cos'è? Lo so Stai qua Stai qua Stai qua Si toglie Si toglie Stai qua Il primo non cliccarlo No Il secondo sì Ok Il terzo no Il quarto Allora aspetta Cos'è? Oh Cos'è? Oh Oh che è? Che ne so? Sento ringhiare No Ho aperto Come hai fatto? Sì Ah ma Ho preso l'hammer Anch'io C'era del sangue E quelli senza sangue Non andavano cliccati Qua dentro Porta Davvero? Buono Buono Corridoio lungo Ok qua c'è Ma la suite dove la prendi? Da questo? No Non la può mettere Dove si usa il martello? Faccia laggiù È lontana L'hai vista? Sì Eh dobbiamo andarla Non guardarla Evitala È qua Chiudi 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 Sì Ti ho trasportato La bastarda Ma sei serio? Non sto scherzando È qua Corri No a chi siamo chiusi Lo sapevo Non siamo chiusi qua No muoverà qui Minchia Sono tornati indietro Sono Fermo Muoverà qui Non andare Non andare Ti 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 trasporta la bastarda Dobbiamo Vale Dobbiamo No è dietro la porta Senti ascoltami un attimo Quando era dietro di me Che cosa hai visto? Era semplicemente dietro di me? Sì Era dietro di me No se ti ti trasporta Vai avanti Non ci voleva questa Perché la giri? Ha fatto un cavallo Mi fa pinta la gira Hai fatto una porta Minchia è vero Ah La devi trapassare proprio E se lo rompo Sto orlogio? Col martello Non si può Ho il cacciavite Non è che dobbiamo andare in Dove sei andato? E' là No 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 vale vale Torna prima Dove c'è un rologio? Ti prego torna Non posso Ho visto la tua torcia per un attimo Mi ha visto Mi viene a prendere Non mi vedi Non mi vedi Non mi vedi Cagnaccio Vai via Vai da vale Vai da vale Cagnaccio Non ti guarda Ma attinitelo tu Ma tu dove sei? Sei nell'altra stanza Sono nella parte radioattiva quasi No Non sto più camminando Cercare Ti sto guardando Ti sto guardando Gira Ti va Vieni da me Vieni da me Corri Non corre Vieni vieni Sei morto Certo No 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 Ti prego vale Lo Tu Non sta Mi sta amaffiando Sono morto Sono Sam